Mi chiede a cominciare la conferenza di prensa con le notizie che ci sono qui, una direttore di Dimas, che ha interesse di l'anti, che è pronto, che ha interesse un'indignazione della comunità urbana, che è pronto che è urbano in una casa con un estrangero, non mi ha permesso mai. C'è un'indignazione della comunità urbana, che è un'indignazione della comunità urbana, che sono in un'indignazione della comunità urbana, che sono in un'indignazione della comunità urbana, che è un'indignazione della comunità urbana, non mi ha permesso di essere un motivo, perché ci sono una propria urbana, che ci sono. Sono usati nel 2006, non si è cambiata la legge, è un'indignazione di essere responsabile per i loro sentienti, non si è cambiata la legge, e se non mi chiede mai un permiso, mi chiede un vero che è 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 un vero che non mi chiede nessun permiso. Non si cambia in tal modo che il tempo si rende a questa casa temporale, prima che il 1 di giugno del 2006 le le vuole cambiare. In un caso di indicazioni che ci sono all'inizio di matrimonio fictico e sto solo in un percorso di 1 di giugno del 2006, ma ci sono gli altri che ci sono rascolati che ci sono i 2 di giugno del 2009, comunque la prima cosa è un percorso. anche se abbiamo un po' di gente che non vogliono, se abbiamo un politico nella campagna di 2009 a demonizzare la mia persona per la cifra nel senso che mostrano che ci sono stati sacando gente, che hanno unbent il matrimonio per il motivo che ci sono fictici ci sono periodisti che è un prodotto di matrimonio fictici che il governo paga però a troppo mi costa molto privata ma c'è gente che mi ricorda che il matrimonio è fictico per la comunità urbana dopo la nostra l'unico di 2009 è qui per l'unico di 2012 quindi l'altra luna mi stiava in tutto che c'è la casa per il mezzo del 2006 la persona che per il mezzo del 2006 è stata casa per il tautino e farò e farò e anche che magari che sia il ragazzo il matrimonio è fictico di ripente ma è ficti cosa non ma è qui non è troppo non si riappare che i ministri qui preferano perjudicare la nostra comunità urbana, basta complacerare la gente che deliberatamente la burla della nostra legge. E mi chiede che la comunità urbana, ma è il momento per noi cominciare a parare, per noi fare, non poter sì, per i ministri, per il motivo di rambare per il potere, e la buraccia di potere, per fare un certo atto contro il benestore della comunità urbana. E ora mi chiede la comunità urbana, mi chiede la cultura di vivere la nostra comunità urbana, che sia disposte per arrivare la nostra comunità urbana. E non ho chiede la nostra bimba, per noi fare la nostra legge e poi fare la nostra comunità.